Il primo cammino di Dante in Casentino, partito da Firenze, è arrivato alla sua meta finale, il Castello di Puppi. Tra le 19 tappe, anche quella con due notti a Subbiano per visitare il Castello di Valenzano, il Paese, ma anche la città di Arezzo, ad accogliere i viandanti il sindaco Ilaria Mattesini, l'assessore Paolo Domini e il presidente dell'associazione Trekking Subbiano Capolona, Gian Piero Conti. Subbiano, come può entrare in questo percorso? Forse non sappiamo se Dante ha pernottato a Subbiano, ma chi ci sia passato è sicuro. Sì, perché lui, 1302, era il capo dei Guelfi Bianchi, che avevano sviluppato l'Università dei Guelfi Bianchi a Gargonza. E lui si muoveva tra Gargonza e San Godenz, quindi tra il Mugello e il sud di Arezzo. Quindi per risalire da un posto all'altro è stato ospite dei vari castelli del Casentino, quindi zona nord dove siano i contiguidi, ma necessariamente è passato anche da Arezzo, che è stata la prima città che l'ha ospitato. Quindi sicuramente Dante a Subbiano c'è passato, ma poi non bisogna dimenticarsi che proprio qui vicino c'è Santa Mama. È lì, è l'inizio della curva dell'Arno, che poi, come dice lui nel XIV del Purgatorio, disdegnosa torce il mutuo agli aretini e l'Arno poi prosegue per Firenze. Quindi ogni tappa, per cui anche Subbiano, Capolona e anche Arezzo, sono menzionate nella Divina Commedia, o a livello naturalistico, in questo caso il corso dell'Arno, o esplicitamente come Arezzo nel XXI dell'Inferno, quando dice, vidi per la terra vostra, aretini, fedir gualdane, fedir torneamenti. C'è chi dice che addirittura possa aver visto post-Campaldino, mentre i Guelfi scendevano su Arezzo, anche una protogiostra del Saracino. Quindi ogni punto tappa del camionante in Casentino c'è un riferimento diretto e indiretto nella Commedia. E anche per Subbiano è così. Probabilmente è un territorio di passaggio, però ecco, la storia che si è svolta intorno a noi, chiaramente siamo orgogliosi di promuoverla in ogni modo. Quindi anche questa è un'occasione assolutamente favorevole per Subbiano, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista turistico e naturalistico. Portare cultura a Subbiano per noi è chiaramente un grande investimento, soprattutto sulle nuove generazioni. Speriamo di poterli coinvolgere perché effettivamente hanno bisogno anche di riscoprire tanti aspetti della nostra cultura che ormai i giovani d'oggi tendono un po' ad abbandonare. Una giornata in cui tutti noi dobbiamo comunque prendere coscienza e consapevolezza del fatto che grazie allo sforzo e alla disponibilità che le persone che investono in questo percorso fanno, dobbiamo noi fare altrettanto nel predisporre una ricezione adeguata, nel poter far sempre un'accoglienza adeguata a chi verrà a visitare i nostri paesi, perché il nostro paese chiaramente deve essere ancora scoperto dal vero turismo. E cogliamo l'opportunità che ci dà quest'anno di turismo dolce, come turismo comunque legato al cammino lento, per poter arrivare effettivamente a mostrare le nostre peculiarità magari anche di chi è al di fuori dei circuiti tradizionali turistici che ci sono. Quindi benvengano queste cose e benvengano soprattutto anche in funzione delle attività economiche che stanno chiaramente lentamente ripartendo. Il cammino di Dante in Casentino, la sua metafinale, il Castello di Puppi, proprio nei giorni che precedono la battaglia di Campaldino, dove Dante fu uno dei protagonisti, ad attendere i promotori ed organizzatori Riccardo Starnotti con i viandanti, amministratori, cittadini e turisti. Grazie mille a tutti voi che siete presenti, un ringraziamento alle istituzioni che di ogni comune ci hanno accompagnato durante questo cammino di Dante in Casentino che è partito sabato 22 maggio da Firenze, 19 tappe, l'arrivo mercoledì 9 giugno 2021 qui a Popperi. Quello che sette anni fa sembrava un azzardo, sembrava un qualcosa che... Sì, magari visto era nel 2015 750 anni della nascita di Dante, qualcosa del momento. Invece in questi sette anni abbiamo fatto sensibilizzazione, abbiamo conosciuto le amministrazioni, le strutture, siamo andati con coloro che vivono nei percorsi e poterlo fare in quest'anno, dopo quello che è successo e per i 700 anni dalla morte di Dante, è un concretizzarsi di un qualcosa che, ripeto, prima sembrava un sogno, è diventato un progetto, è diventata una promozione e ora si sta concretizzando. Tant'è che per il 2022 abbiamo previsto un'uscita sulle terre di mezzo con il cammino di Dante in Casentino per poi essere realmente a sistema con le amministrazioni, con le strutture, 2023 che sono 650 anni dalla prima lettura Dante di Boccaccio sempre a Firenze. Quindi siamo molto contenti che questa cosa stia prendendo finalmente il volo. Luogo dantesco per eccellenza è naturalmente il castello dei Conti Guidi ma tutto Poppi. Ecco, cosa significa per Poppi il cammino di Dante proprio che oggi arriva, ma il cammino di Dante in senso lato, in questa promozione che può essere turistica e culturale insieme? Un momento di promozione culturale e turistica, è un importante avvenimento perché poi i cammini in qualche modo portano turisti, portano dove sono luoghi simbolo. Qui abbiamo il castello dei Polpi dove Dante ha soggiornato, dove Dante è stato ospite dei Conti Guidi, dove Dante sembra abbia scritto, così dicono gli storici, anche dei canti della Divina Commedia. Davanti a Poppi abbiamo il castello di Romena dove anche lì facciamo menzione alla Divina Commedia. Quindi sono momenti importanti di una comunità che cerca di ripartire e di rinascere intorno a due aspetti fondamentali di cui ovviamente siamo felici possessori, la cultura e le bellezze. Il comune di Firenze in questa giornata c'è sempre presente alle manifestazioni riferite proprio alla battaglia di Campaldino? Ma sì, per noi comunque la battaglia di Campaldino è un evento storico importante per la città di Firenze, ci piace essere presenti ogni volta che c'è la possibilità di essere qua. Sicuramente Dante è una figura importante per tutti i luoghi in cui lui è stato, in cui che lui racconta e quindi sicuramente anche a Firenze è un personaggio fondamentale. Non a caso in Piazza Santa Croce ancora c'è una bellissima statua in onore a lui, come c'è la casa di Dante. Quindi anche per Firenze è sicuramente un personaggio importante. Naturalmente lo diventa ancora forse di più in quei luoghi in cui sicuramente un valore aggiunto può essere veramente Dante. I cammini di Dante sono per il Casentino uno sviluppo turistico molto importante che dobbiamo sapere sfruttare anche per i prossimi anni perché chiaramente il Casentino è una parte di Dante, perché Dante come sappiamo ha fatto il suo esilio nel castello di Poppi è riportato anche nei canti dell'inferno del Conte Ugolino, perciò chiaramente Dante è legato al Casentino con la battaglia di Campaldino, Dante è legato al Casentino con il castello di Porciano. Il comune di Castelfo Cognano è alle porte del Casentino e l'accoglienza di Dante in Casentino si è legata a tutti i comuni del Casentino e noi siamo molto orgogliosi che Dante e il Casentino siano un vero binomio. Tra le tante idee che il nostro vulcano Dante e Riccardo ha, perché è vero è Dante che compie questo cammino, questo percorso attraverso i tre regni, ma se non ci fossero state le donne probabilmente questo percorso non lo avrebbe mai compiuto e quindi è stato grazie all'intercessione della Vergine Maria e di Santa Lucia e di Beatrice che appunto Dante è stato salvato e gli è stato permesso di fare questo cammino che poi ha donato, ha raccontato a tutti noi e che poi anche voi, piccolo, mi riferisco ai camminatori, avete provato proprio l'esperienza di fare questo cammino, questa esperienza di crescita, di accrescimento personale in una terra come quella del Casentino che nella Divina Commedia si legge, si percepisce, si respira, perché soprattutto nella Cantica del Purgatorio sono proprio questi luoghi che si leggono e si percepiscono. Un Casentino attraversato da ben due cammini dedicati al sommo poeta, il Cammino di Dante, Firenze Ravenna e il Cammino di Dante in Casentino e questo 2021 è un anno importante per queste vie culturali storiche. Per quanto riguarda il Cammino di Dante, Firenze Ravenna, quest'anno uscirà anche presto una guida che è edita da Terre di Mezzo, mentre per quanto riguarda il Cammino di Dante in Casentino che è stato inventato e voluto da Riccardo Stannotti, di cui noi come università, io come università ho avuto l'incarico di collaudare e il giro che si concluderà oggi è stato proprio il primo collaudo di questo percorso. È sicuramente un'occasione per il Casentino di vederlo e di visitarlo tutto perché entriamo e ripercorriamo dal passo dei Croce Vecchia, quindi entriamo a Montemignaio, da Prato Vecchio Stia, giriamo in senso antoriario e arriviamo qui a Poppi. Giriamo in senso antoriario e tocchiamo tutti i luoghi cari a Dante, direttamente o indirettamente citati nella Divina Commedia. È un cammino impegnativo, oltre ad essere molto bello perché giriamo per le nostre colline, arriviamo anche poi su una montagna per poi riscendere. Ovviamente loro conoscevano alcuni di questi luoghi ma mai li avevano visti a piedi, quindi il segreto è il camminare, il vederli a piedi con la lentezza e con la lentezza ci permette di stare più attenti alle piccole cose. Il piacere è di consegnare quella che è la Divina, che è il documento che certifica che in questo 2021, 700 anni dalla morte di Dante, chiunque ha svolto una tappa o chiaramente chi l'ha fatto intero avrà questo ricordo. Per noi è estremamente importante aver fatto questo giro, aver segnato una nuova tappa per quanto riguarda i cammini perché questo è stato un esperimento di questo viaggio, quindi il nostro più che un viaggio era sperimentare se questo corso era all'altezza e onestamente devo dire che anzi mi ha invogliato a diventare non una guida solamente turistica ma anche una guida ambientale, quindi questo per me è una grande soddisfazione perché quello che si incontra, cioè il paesaggio e il camminando che è bellissimo qui nei dintorni vale veramente la pena. Cosa possiamo correggere? Io penso che correggere per quanto mi riguarda credo che soprattutto la segnalazione del cammino perché in dei punti ancora non è ben delineato e quindi spero che i vari comuni che noi abbiamo attraversato prendino questo impegno per poterlo portare avanti e migliorarlo soprattutto per questo fatto. Meglio Santiago di Compostela o meglio Cammino di Dante? Cammino di Dante, Cammino di Dante, non c'è nessun punto di comparazione, Cammino di Dante, sì, sì, sì. Ma è molto bella la Toscana, molto bella, molto bella e è molto verde, molto bella. Io sono la via Dante del mondo, sì. Ecco, in questa via Dante del mondo, questo cammino di Dante, come si colloca secondo te proprio in tanti cammini? Allora, questo cammino è straordinario, uno perché non dimentichiamoci che questo è il 700esimo anno, l'anniversario di Dante, della morte di Dante e se pensiamo che in 700 anni non è stato mai veramente fatto qualcosa per relazionare Dante o diciamolo pubblicizzato, il fatto, la presenza di Dante nel Casentino e l'importanza che il Casentino ha avuto su Dante e Riccardo Starnotti con il suo Dante Redivivo lo torna a far vivere prima di tutto. Poi il fatto che sia l'anno, e quello fa nell'anno che celebra il poeta, poi l'anno, la riapertura dopo la pandemia, una grandissima opportunità di apertura spirituale, di revisione della propria vita, della propria esistenza, di anche generare un turismo diverso, un tipo di turismo diverso, più lento, più locale, più ecosostenibile e questo cammino si propone esattamente di fare quello e quindi è rivolto agli italiani, anche agli stranieri, ma un italiano ovviamente che studia Dante, che ha studiato Dante, lo apprezzerà in maniera particolare. La tappa che ha portato i camminatori a Puppi era partita da Raggiolo, occasione per Riccardo Starnotti di parlare con chi ha fatto questo cammino, un cammino che potremmo dire di verifica. Siamo qui con la nostra Marcella, la quale ha sviluppato la prima tappa con noi a Firenze, bellissima, quando abbiamo preso la benedizione a San Minato al Monte, ha potuto seguire, ci ha sempre dato i feedback durante i post o le informazioni date su internet e poi è tornata a fare le ultime due tappe. Ho tutto solo perché lavoravo prima, altrimenti le avrei fatte tutte e seguendovi vi invidiavo molto perché vedevo questi paesaggi stupendi, le persone che hanno fatto il cammino, tutto il cammino gliel'avevo vista appunto a Firenze, e in questi due giorni le ho conosciute e ho trovato un gruppo affiatatissimo. Come avviene nel cammino? Il cammino di Dante in Casentino è un cammino di comunità nelle comunità e si svolge interamente in aree interne e questo è una grossa risorsa perché le aree interne sono sempre considerate, sempre state considerate marginali. Ora con la pandemia, anche nelle grandi città hanno sofferto molto questo momento, si cerca di tornare alla veridicità e all'autenticità dei luoghi e il Casentino è uno di questi luoghi, quindi un'area interna e è giusto che venga valorizzata anche da questo punto di vista. Chiudiamo questa giornata che conclude il cammino di Dante in Casentino davanti al castello dei Conti Guidi a Puppi, dalla chiesa di Santa Maria della Visitazione in Subbiano, nella cui piazzetta sul Lungarno il 6 e il 20 agosto ospiterà Riccardo Starnotti con delle letture dantesche e chiusura più bella non poteva esserci se non lasciandoci emozionare da delle terzine tratte dal Paradiso della Divina Commedia. A voi poi provare questi percorsi e qualche tappa. E quindi saluterei questo caloroso abbraccio svolto da tutti voi recitando i primi sette terzine del 33esimo canto del Paradiso, quando, dopo aver fatto tutto il viaggio, l'inferno purgatorio e in Paradiso, Dante trova la sua terza guida, dopo Virgilio e Beatrice, che è San Bernardo, che dice a Dante guarda io adesso chiedo alla Vergine che si interponga la tua vista per vedere Dio, perché se vedessi Dio senza la sua intercessione moriresti, e te ascoltami, seguimi con il cuore. E inizia questa santa orazione che dice Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Qui sei a noi, meridiana face di caritate, giuso in tramortali, sei di speranza, fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vol grazia te non ricorre, sua disianza vol volar sanzali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fiate, liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura e di bontate.